Vuoi sapere se Dark Souls ha una trama? Ma certo! Forse se la tua visione non fosse oscurata da una miriade di fallimenti, avresti potuto vederla. Non temere, figlio allo sperduto, perché io te la racconto. Essere un drago è fantastico. Fantastico, fantastico! Possiamo dominare le nostre terre, acque infinitamente grigie, gli alberi, abbiamo anche questo teschio. Non ho idea da dove sia uscito fuori. Questa sì che è la vita. Tranne per Sith. Oh, Sith, che problema hai, Sith? Sei triste perché sai che morirai perché non hai le scaglie, Sith? Ciocco la senza gambe. Non ha manco le gambe. Abbiamo questo cristallo di merda che ci rende due volte immortali chissà perché. Non ci serve neanche. Non ci serve neanche. Come ci si sente, Sith? Ad essere una zoccola? Così ne avete trovata uno anche voi. Mi ha reso più intelligente, più forte, più... Fulmini! Oh no, fulmini! La nostra unica debolezza! Pacce 1.05, salvaci! Ah, un del mio asma supera il culo! Sith, hai tradito così bene che meriti un castello. E sei anche un duca. Eccellente, vado a fare qualche ricerca, forse è impazzita. Ok. Merda, la fiamma si sta estinguendo. Ehi, ecco una pazza idea! Continua. Abbiamo ricevuto queste anime dalla prima fiamma, giusto? Userò la mia anima per creare un'altra fiamma. Non credo sia una... Guarda, i miei bambini, demoniaci! Dannazione! Restate qui, ce ne occuperemo noi. Carica! Oddio! Ritirata, ritirata! Ah, che sei fatta, no? Mi darò semplicemente fuoco. Ma padre... Ho tipo perso gli addali storici. Beh, figliolo, sono deluso, ma ti amo lo stesso, anche se... E il tuo disco di Valandand. Vai via! Gwendolyn, prenditi cura di Anor Londo mentre papà viene consumato dalla prima fiamma. In realtà sono un ragazzo. Non ora, tesoro! Sire, che ne facciamo di sire? Ci vuoi dire? Sire, che ne facciamo di sire? Non possiamo ripulire la cosa. Non ne farai parola con nessuno. L'ho da il sole a vita! Sta merda fa schifo. Andrò in giro a cercare altri tizi a cui dare fuoco. Ma è stupido. Tu sei stupido. Darò vita alla confraternità oscura. Sapete di cosa avete bisogno? Di divorare l'umanità dal corpo di Manus, l'uomo primordiale. Sapete di cosa avete bisogno? Di nutrirvi dell'umanità di altri uomini. Oh, Cavaliere Artorias. Come va con Kiran? Bella calda. Guarda questo cucciolo. Incredibile. Ehi, quindi l'abisso si sta un po' incasinando. Non è che sai qualcosa, vero? No, perché... Proviamo un patto sospetto, così che io possa infilarmi in culo all'abisso. Non c'è nulla di quella frase che non adori. Ora, torniamo ad essere ambiguamente malvagi. Già, sembra starci un'otturazione della dobbatura invece no, L'Alice. Se non chiamo per martedì, fate ciò che deve essere fatto. Giurate. No, sì, ma certo, ma certo. Finalmente è andato via. Il parco acquatico di Nulondo apre agi! Brutte notizie, piccolo Sif. Mi sono rotto il braccio per qualche motivo. Sei venuto nel quartiere sbagliato, figlio di puttono. Ehi, questo è razzista! Oh, scusa. Prendi il mio strano scudo, piccolo Sif. Ti proteggerà dalla violenza urbana. Beh, in bocca al lupo. Entrerò nell'oscura caverna di Manus con la mia fiala di Estus. Ok, Manus, è arrivato il momento di... Oh no! Oddio, no! Sta infilando il suo abisso nelle mie cataconte! Questi non morti stanno diventando un problema. Forse possiamo trovare una soluzione all'Othren. Mandateli tutti in quel manicomio ammuffito per il momento. Non siamo tutti cattivi. Finché rimaniamo motivati, conserviamo la nostra umanità. Sire, l'ultima paccia non ha posizionato il suo allineamento. Ah, così veloce! Ah, un cadavere! Psst. Sto liberando tutti i non morti dalle loro celle per completare un'antica profezia. C'è una chiave su quel cadavere. Perché non mi hai lanciato la chiave, stronzo? Ordunque hai trovato da solo la risposta. Demone sul tetto! Tutta la storia ha portato a questo momento. Riaccenderai l'era della fiamma e porterai prosperità nel mondo per un altro centinaio di anni? O soddisferai il desiderio dei tuoi antenati diventando il signore dell'anima oscura? Salve, sono Luca di Game La Game. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Supportate il canale con un'iscrizione, condivisione e con un like magari. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.